Buon sabato e grazie di essere qui. Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, lo scrive Abel Tolbrecht nel suo Vita di Galileo, era l'anno 39 del secolo scorso. Non so se è sventurata la terra che ha bisogno di eroi, però certamente una volta che lo ha capito di averne bisogno è meglio trovarli gli eroi. Sulla frase di Brecht io credo che Emma Bonino, che è il nostro ospite di oggi, sarà d'accordo. Sul resto glielo chiediamo. Se Mario Draghi sia un eroe è difficile dirlo, certamente di coraggio ne ha, ne ha dimostrato e di capacità politica superiore alla media anche. Se è vero che dopo pochi giorni e pochissime parole ha riuscito a convincere un po' tutti i partiti ad appoggiare il suo progetto di governo e l'idea di un futuro per questo paese tutti, tranne Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, che è comunque un risultato notevole. Visto che abbiamo appena chiuso il primo giro di consultazioni, Draghi sembra avere un problema opposto a quello del suo predecessore, cioè l'abbondanza di numeri e di posizioni politiche. Sarà un lavoro da eroe metterle insieme in un programma di governo. Però Draghi potrebbe anche scegliere di non provarci nemmeno perché ha le cose impossibili, poi alla fine lo sapete non è tenuto nessuno. E che cosa potrebbe fare? Beh, proporre una sua idea, la sua sintesi, il suo confine e poi lasciare che le forze politiche decidano se appoggiarlo o meno. Non un contratto di governo, che poi era l'ultima espressione di una politica che non si fidava nemmeno più di se stessa, ma invece un contratto per adesione, un po' quello che firmate, firmiamo tutti con le assicurazioni, leggiamo con attenzione e poi decidiamo, firmiamo o non firmiamo. D'altra parte, a proposito di sedicenti eroi, Renzi l'ha detto l'altro giorno, Draghi ha detto è l'assicurazione sulla vita dei nostri figli. Ne parliamo con Emma Bonino. Senatrice, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Chiacchierare un po' con lei della politica di questi giorni, che è abbastanza interessante, no? L'Italia ha bisogno di eroi per riprendere quello che dicevo prima, Bonino. Ma adesso smettiamo le iperboli. L'Italia aveva bisogno di una svolta, di una svolta consistente per affrontare le prime emergenze gigantesche che abbiamo di fronte. Da questo punto di vista non si poteva continuare, secondo noi, con immobilismi, eccetera, eccetera. E grazie alla saggezza di Mattarella, alla fine ha nominato Mario Draghi, signore autorevole, competente, assolutamente, stimato internazionalmente e adesso eroe lo eroe, però certo il suo compito sarà difficile per le ragioni opposte, cioè per abbondanza di adesioni. Quello che c'è da sperare è che questa abbondanza di appoggi non si traduca per l'ennesima volta in questo sì, questo no, quello non lo vogliamo, con lui non ci sediamo o differenze di... Perché le priorità, il presidente incaricato Draghi, le ha dette nelle consultazioni, credo ad ognuno di noi che sia stato consultato. Prima priorità, portare a casa bene il piano vaccinale, perché senza questo è difficile anche far ripartire l'economia, riformare o riscrivere in modo diciamo coerente con le indicazioni della Commissione Europea il nostro piano di ripartenza, resilienza, come lo volete chiamare, che io preferisco chiamare next generation, perché è chiaro almeno l'obiettivo, non si chiama next election, questo piano, si chiama next generation, per i vostri figli. È un po' de-gasperiano come intenti, no? Non lo so, sì, ma insomma è così, cioè non è che possiamo continuare a fare debito per tutti le stesse cose, Bonino? Io penso di sì, almeno nelle priorità e tra le priorità ha ben sottolineato che se l'Italia fallisce, fallisce anche diciamo il processo di integrazione europea, perché strappare questi fondi è stato duro rispetto a posizioni opposte dei paesi diciamo nordici. Se falliamo è intanto un disastro per l'Italia, ma è anche un blocco diciamo al processo di integrazione e ha ben sottolineato che anche per fare i progetti il prerequisito sono le riforme, in particolare la giustizia, la sburocratizzazione per avere una ripresa economica e non continuare con sussidi. La strada secondo me non sarà facile. Eh no, ma anche perché per esempio già per dire sulla giustizia abbiamo di fronte forze politiche che la pensano in maniera diametralmente opposta. Ha un colore secondo lei Draghi con cui si presenta le consultazioni, un colore comunque politico per quanto magari pastello non particolarmente sgargiante ma ce l'ha? Io credo si presenti come europeista e quindi come italiano che vuole il bene del suo paese. Ma se dovessi dare una definizione più Italia in Europa e più Europa. Questo è mi pare il connotato... Con sussieramento. È un po' radicale, è un po' radicale Draghi? No, 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 no. Credo proprio di no. Ma non è questo il problema. Il problema è se riuscirà a farsi una squadra senza troppi veti pretese, veti contrapposti, io entro se, quell'altro entra se i ministri sono due, quello se i ministri sono tre. Perché se ricominciamo questo teatrino ovviamente Draghi rischia di non portare a casa il suo progetto, e il suo programma, quello che serve oggi al nostro paese. Serve oggi con risultati a medio e lungo termine. Mi dice lei che il colore di Draghi è l'europeismo. Salvini è un europeista a suo modo oppure è un anti-europeista? E quindi a che titolo tratta con Draghi la sua presenza? Beh bisogna chiedere... Comunque, considera la sua presenza in questo governo? Ma intanto andrebbe chiesto a Salvini. Io trovo una giravolta molto rapida, se così mi posso esprimere. Spero non solo di facciata. Ed è chiaro che la Lega ha avuto finora un atteggiamento molto anti-europeista, ma questo è anche una parte dei Cinque Stelle. Quindi perché adesso si è diventato europeista? Questo va chiesto a lui, certamente non a me. Torno al punto. Come fa un governo che sembrerebbe poter contare su una maggioranza così ampia ad esprimere un indirizzo politico? Perché comunque un indirizzo politico dovrà esprimerlo. Con quale meccanismo? Quello che dicevo prima, cioè Draghi mette i suoi paletti e spinge gli altri a un punto, a un contratto per adesione? Oppure assisteremo alle trattative difficilissime? Quanto più difficili, quanto tanto più la maggioranza è stesa a posizioni molto diverse? Io credo che la linea di condotta del Presidente incaricato sia spendere e investire bene questa unica opportunità dei 209 miliardi più tutti gli altri su cui tradizionalmente il nostro Paese non brilla. Basta pensare al non utilizzo dei fondi di coesione dell'ultimo settennato che peraltro erano 74 miliardi. Adesso c'è da investirne 209, secondo linea e guida molto chiare e io credo che su questo soprattutto e quindi sulle riforme necessarie, la digitalizzazione, l'ho già detto la sburocratizzazione, la giustizia civile e penale questa sarà la linea di marcia e di priorità nei prossimi mesi segnalo che peraltro siamo già particolarmente in ritardo e il Commissario Gentiloni e Dombrovski ce l'hanno detto in decine di interviste siamo già molto in ritardo nella compilazione. Tenga anche conto che una delle cose che chiedeva per l'Europa era qual è la struttura di governance cioè chi è responsabile non solo del progetto ma del monitoraggio, dello stato di avanzamento eccetera eccetera Nella proposta attuale, draft che gira questa parte viene detto ancora non abbiamo idea ve lo faremo sapere Ora è chiaro che così non si può mandare in Europa ci verrebbe respinto con ignominia e quindi il più grande sforzo che deve fare nell'immediato dopo aver formato la sua compagine si spera in modo non troppo travagliato è dedicarsi, credo, finalmente a questo piano di ripresa e mi fa anche sperare che l'attenzione che il Presidente Draghi da tempo rivolge sui giovani sul loro futuro eccetera eccetera non è di questi ultimi giorni ma negli ultimi interventi degli ultimi anni anche quando parlava di debito buono e debito cattivo abbia questa priorità ben precisa e ben chiara in testa Senatrice, oggi Grillo prima di andare al colloquio con il Presidente incaricato ha postato sul suo blog un pezzo di programma di un governo secondo lui e cioè la riorganizzazione di alcuni ministeri un accento molto pronunciato su un'economia di sviluppo sostenibile la necessità di mettere insieme il Ministero dello Sviluppo Economico con le competenze sull'energia per esempio una serie di idee ma lei oggi è così lontana dalle idee dei 5 Stelle e di Grillo in particolare? Senta, per spacchettare un ministero glielo dico per esperienza governo Prodi pur con l'aiuto del ministro dell'epoca Tommaso Padova Schioppa ci abbiamo messo un anno per spacchettare il ministero del commercio ecco, quindi per favore ci sono tante belle idee ma si fa per dire ma devono essere calate nella realtà e nei bisogni presenti e a medio termine del nostro paese poi si potrà fare, non so, ma mi pare che nei prossimi settimane e mesi questo si debba fare e pensi cosa vuol dire sburocratizzare il nostro paese la riforma dell'amministrazione o come lei già ha accennato la riforma della giustizia penale e civile o cosa vuole dire mettere in piedi un progetto di vaccinazione un piano vaccinale che ad oggi evidentemente non è adeguato diciamo così le faccio senatrice due domande in una le faccio due domande in una cioè lei è stata sempre una sostenitrice della necessità di riforme profonde di questo paese sia istituzionali che politiche questo governo non può e non deve occuparsene secondo lei e l'altra domanda che è connessa a questa Draghi ha in mente e le forze che lo appoggerebbero hanno in mente un orizzonte di legislatura è possibile questo? E c'è il tempo per fare tutto? No, il tempo è molto breve anche se arrivasse alla fine della legislatura come lei sa perfettamente perché queste sono come dire incrostazioni nel nostro paese che vengono da lontano per cui non è che ci... io vorrei mettere in guardia tutti adesso non vi aspettate miracoli aspettiamoci dei passi per andare avanti rapidi ma non è che adesso si riesce come dire a fare dalla sera alla mattina il miracolo di tutto quello che ci siamo trascinati per anni e non siamo riusciti a risolvere ovviamente non è compito del governo occuparsi della legge elettorale questo dovrebbe essere nella responsabilità delle forze politiche ma direi anche io sono per il maggioritario come sapete al massimo il maggioritario al doppio turno trovo che tornare al proporzionale sia una vera disgrazia l'abbiamo già vissuto cosa diavolo vuole dire eppure va molto di moda però sì sì no no è popolarissimo come se avessimo sempre la memoria corta sappiamo bene cosa ho voluto dire magari più giovani no ma sappiamo bene cos'era ora in più con le preferenze vabbè lasciamo perdere insomma non facciamo politica solo con il retrovisore vediamo di far politica in modo meno litigioso più decoroso più rispettoso delle istituzioni questo sì mi sento di chiederlo al presidente incaricato che lo sa benissimo ma più rispettoso del precedente delle istituzioni del Parlamento della separazione dei poteri insomma questa attenzione secondo me l'aggiungerei alle priorità che il presidente ci ha illustrato senatrice abbiamo parlato molto ricordando parole recenti di Draghi la sua attenzione alla qualità della spesa no? raramente si parla di un'attenzione alla quantità della spesa nel senso che noi ci ritroveremo tra anche qualche tempo ad avere a che fare con una percentuale di debito sul PIL enorme e che comunque dovrà rientrare ecco ha colto una preoccupazione il presidente del consiglio incaricato da economista su questo oppure siamo dell'idea che comunque il debito sovrano comunque non è un problema o non sarà un problema no, non credo che questo sia non credo che questo sia la percezione e la convinzione di Mario Draghi al contrario perché è un paese che sta sferando il 160% del PIL in debito e peraltro non solo non tanto per investimenti ahimè ma per le spese correnti o sussidi o elargizioni di vario tipo eccetera eccetera è chiaro che almeno uno fa il debito buono come diceva cioè per investimenti per la ripresa economica per l'attenzione della ripresa economica sostenibile credo che questo Draghi l'abbia detto varie svariate volte però questa è una preoccupazione che dovremmo avere tutti perché voi lasciate ai vostri figli un carico da 90 sulle spalle in un mondo molto competitivo quindi insomma io lo trovo irresponsabile a aumentare il debito per elargizioni sussidi e quant'altro come è valuta l'operato di Renzi dall'inizio di questa crisi ad oggi? Io penso che peraltro i problemi che lui ha posto le vanno posti come più Europa da tempo penso al MES penso al tema sanitario la gestione del covid eccetera eccetera lei quando votò la fiducia quando non votò la prima fiducia al governo Conte Bis disse ma sono disponibile a cambiare idea se ricordo ricordo bene però non l'ha cambiata non l'hanno convinta a cambiarla evidentemente beh ma al contrario mi sembra di aver capito comunque non voglio difendere Renzi perché egocentrico con me non ne sarebbe neanche contento quindi però avevamo posto avevamo posto ben prima i problemi che poi sono esplosi sotto gli occhi di tutti peraltro Poco tempo voglio parlare un pochino di Europa è mancata trasparenza nel contratto sui vaccini con varie case farmaceutiche accentrato a Bruxelles secondo lei si poteva fare meglio beh questo lo ha ammesso la stessa commissaria Van der Leyen la stessa presidente in un'intervista che ha concesso ieri credo in cui ha detto sono stati fatti errori abbiamo poco valutato gli aspetti legali quindi l'ha ammesso lei non è che però la scarsa trasparenza più che un errore sembra essere una scelta mi corregga se sbaglio sì 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 ma anche noi insomma io vorrei molto vederlo il contratto fatto dall'Italia per esempio e io credo che quello comunque sia stato un errore sicuramente sì corregibile ma è stato un errore ancora sull'Europa come si mettono i rapporti con Mosca ma noi abbiamo avuto anche nel nostro paese tentennamenti di 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 vario tipo ci sono altri penso alla Germania con il suo stream 2 eccetera eccetera quindi è chiaro che è un nostro vicino geografico non è che possiamo fare la guerra nucleare o anche la guerra tradizionale però è evidente che una risposta più energica e più omogenea anche nel nostro paese abbiamo avuto e abbiamo partiti molto filorussi penso tanto per dirne uno a Salvini no? vivo meglio a Mosca che in Italia abbiato a lui ma la cosa si sta in asprendo perché ieri quando l'alto rappresentante Borrelli è andato a Mosca per chiedere la liberazione a questo mi riferivo infatti l'oppositore e non solo non ha ottenuto niente neanche di vederlo ma proprio lo stesso giorno la Russia sono stati espulsi tre diplomatici spedisce via tre diplomatici europei quindi insomma adesso non è che dobbiamo fare chissà quali grandi analisi però la situazione è squadernata sotto i nostri occhi e ricordiamoci bene che non siamo noi ad avere in particolare bisogno della Russia è la Russia che ha bisogno del mercato europeo perché al di là di aspirazioni grandiose la situazione economica in Russia e dei rissi e dei russi è miserabile questo lo sanno tutti quindi insomma cerchiamo di farci un po' forza e poi soprattutto mal distribuita e a proposito di una cosa che probabilmente manca in Russia perlomeno in parte è la libertà è un brano di Giorgio Gabber splendido peraltro che mi ha segnalato come particolarmente importante per lei lo ascoltiamo qualche secondo libertà è partecipazione vorrei essere libero libero come un uomo libertà è partecipazione lo sfumo io vorrei essere libero libero come un uomo come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia e che ha il diritto di votare e che passa la sua fantasia è nella democrazia cantava Giorgio Gabber è interessante lo condivide pienamente questa è una canzone che quando ero molto più ragazza mi ha colpito molto più di tanti libri tanti studi tanti saggi perché cominci a dire la libertà non è uno spazio libero e non è neanche stare sopra un albero la libertà è partecipazione e poi arriva sulla democrazia perché è proprio così la libertà non è l'analgia è un presso iscindibile diciamo fa quello che gli pare sì sì comunque io perché vivere insieme in collettività vuol dire a darsi delle regole che siano partecipate e partecipate e quindi non si passa con il rosso al semaforo tanto per dirne la più piccola o non si va a contromano in autostrada ma comunque la partecipazione dei cittadini cerco di paratrasare Moretti come diceva che le parole lo sono la partecipazione dei eh sì la partecipazione dei cittadini alla vita politica senza che si lamentano sempre dopo perché questi signori che non sono stati brillantissimi sono stati eletti dai cittadini italiani quindi ognuno ha e si assuma le sue responsabilità il vuoto non esiste né nella vita personale né in un suon'altro quindi se i cittadini non partecipano il vuoto lo riempie qualcun altro allora mi piace chiudere questa intervista e la ringrazio senatrice ricordando innanzitutto il titolo di un libro che lei ha scritto con Giovanna Casadio qualche anno fa ma mi pare molto attuale ne ho letto alcuni brani che si intitolava I doveri della libertà che spesso sono visti un po' come uno simoro doveri e libertà invece lei ha scritto gli italiani si sono inventati la caricatura della libertà ma la libertà prende forma con i diritti e sono i doveri a darle tenuta anzi i diritti e i doveri sono le facce di una stessa medaglia abbiamo da imparare su questo? esattamente così no non è da imparare è semplicemente il mio pensiero ci potete pensare ma lo dico anche ai ragazzi voi avete tanti diritti che avete ricevuto dai vostri nonni e dai vostri padri ricordatevi però anche di restituire qualcosa in termini di responsabilità intanto studiare ma insomma la libertà che voi pretendete ha dei doveri per esempio di rispettare la libertà degli altri grazie grazie a Emma Bonino per essere stata con noi in questo sabato particolare il prossimo sarà probabilmente altrettanto particolare ma noi contiamo di essere qui con l'ospite alla stessa ora magari a crisi di governo risolta chissà grazie a tutti